Proseguono a cadenza settimanale gli allenamenti della rappresentativa femminile giovanile Puglia-Azzurra. Il gruppo delle classi 1999-2000 ha svolto a Bari un allenamento con Tiziano Vidoni, preparatore fisico del progetto Azzurrina. Una buona occasione per verificare i progressi del gruppo anche dal punto di vista atletico, assieme al collega Mimmo Sant'Arcangelo e agli altri componenti dello staff coordinato dal referente tecnico territoriale Vincenzo Bifulco e dal dirigente responsabile Letizia Montinaro. Per l'ennesima volta, perché è uno dei tanti anni che vengo qui in Puglia, vedo che il movimento c'è, stanno lavorando molto bene, c'è tanta coesione all'interno del gruppo, dello staff tecnico e ho sempre il piacere di vedere molta gente in palestra, quindi preparatori, allenatori, bello vedere come scambiano, come cercano di costruire un percorso di formazione assieme. È un gruppo, quello delle giovani cestiste 99-2000, che vanta margini di miglioramento anche fisico. Rispetto alle altre annate, sicuramente un po' l'altezza media e anche il fenotipo delle ragazze è decisamente migliore rispetto agli anni passati. Non ci sono questi grandi picchi in centimetri, però secondo me non ho le statistiche alla mano, ma l'altezza media è migliore, cioè è aumentata rispetto alle selezioni precedenti. Ci sono dei buoni punti a lavorare, ho visto alcune ragazzine anche interessanti, molto in fierice, molto in fase di crescita, anche all'interno del gruppo delle 2000 si vede che sono ragazze che stanno ancora crescendo, non hanno ultimato la loro crescita dal punto di vista morfologico e questo è una buona cosa.